Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale e tv siti. In apertura l'escalation di violenza a Torre Annunziata. A poco più di una settimana al brutale omicidio di Maurizio Cellarato, un 17enne è stato gambizzato nella curva ai viaggino Alfani. Facciamo il punto della situazione con il sindaco Vincenzo Ascione. Passiamo ora alla cronaca con i controlli della Guardia di Finanza per il rispetto delle misure anti-covid su tutto il territorio napoletano. Violenta rapina invece a Napoli, scaraventate a terra due diciotteni solo per rubare una borsetta. In conclusione la Turris che chiude in Parigio l'ultima giornata del campionato in Serie C contro la Vibonise. Questo ed altro nei nostri servizi. Nuovo episodio di violenza a Torre Annunziata. Nemmeno una settimana dopo il funerale di Maurizio Cerrato, brutalmente ucciso per un parcheggio, un 17enne è stato gambizzato nella curva ai viaggino Alfani. Probabilmente un tentativo di rapina degenerato. I cittadini sono spaventati per l'escalation di violenza delle ultime settimane e sui social chiedono a gran voce maggiori controlli o addirittura l'arrivo dell'esercito. In collegamento con i nostri studi il sindaco Vincenzo Ascione ha parlato della situazione critica che sta vivendo la città. Continuando a ragionare e a discutere su tutte le iniziative da mettere in campo, compresa quella di continuare nell'opera di rimozione degli ostacoli ad una libera circolazione per le nostre state, per le state pubbliche. Ma per dare il senso che lo Stato appunto siamo tutti quanti noi, lo Stato è la stessa comunità che vive un territorio, non è solo il carabiniere, il poliziotto o il vigile urbano. Lo Stato siamo tutti quanti noi e questo probabilmente non è stato ancora compreso da larga parte della popolazione. Quindi oltre a mettere in campo un'azione repressiva che abbiamo già iniziato e che continuerà anche nei prossimi giorni, chiaramente lo stiamo facendo in collaborazione con Polizia e Carabinieri. Oltre a questo stiamo anche immaginando una serie di azioni che sono quelle di coinvolgimento delle tantissime associazioni presenti sul nostro territorio e stiamo cercando di organizzarlo in maniera appropriata in un luogo che ci possa consentire anche un incontro in presenza. Stiamo anche cercando di avere una disponibilità del prefetto per farlo venire anche sul nostro territorio. La presenza dello Stato sul nostro territorio c'è ma che sicuramente va implementata, va data una percezione di una maggiore cavillarità e maggiore anche presenza nei luoghi soprattutto quelli dell'aggregazione giovanile perché poi l'episodio di ieri è sintomatico di un disagio giovanile che c'è sui nostri territori. Con la collaborazione Impulso e il prefetto in Napoli sono tante le possibili soluzioni da mettere in campo per contrastare questa emergenza sociale. Ci ha anche chiaramente compulsato a fare la nostra parte come appunto quella della manutenzione delle telecamere per la video sorveglianza del territorio che in questo momento è in corso. Il prefetto ci è vicino da questo punto di vista. Ora rispetto alla possibilità di aumentare le forze in campo è chiaro che deve fare i conti un po' con tutta una serie di situazioni e di questioni che lui deve coordinare. Per esempio vedo che molti miei concittadini stanno chiedendo l'invio dell'esercito. In questo momento io credo che l'esercito venga utilizzato soprattutto per quanto riguarda le azioni antiterrorismo e quindi soprattutto in alcuni obiettivi sensibili che a livello chiaramente nazionale sono stati individuati come obiettivi sensibili e che possono essere sottoposti ad attentati terroristici. Utilizzare come a Napoli per esempio l'esercito per le strade sicure potrebbe essere una soluzione ma che ripeto resta nelle corde del coordinamento fatto dal prefetto. Il comando provinciale della Guardia di Finanza in Napoli ha intensificato anche nella settimana d'ingresso della campagna nella zona gialla il dispositivo dei controlli volti a verificare rispetto delle misure anti-covid. In totale sono state controllate tra il capoluogo e la provincia 2.842 persone e 268 attività commerciali. 88 le sanzioni complessive a carico di persone senza mascherina e in strada durante il coprifuoco. Sanzionate all'esterno dell'area portuale 25 persone fuori orario che hanno dichiarato di essersi attardate in zona mergellina e in altre aree della Movida. Dai controlli sono scaturite anche segnalazioni alla prefettura, denunce all'autorità giudiziaria e un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti con sequestri di hashish anche grazie all'ausilio delle unità cinofile tra la stazione centrale Garibaldi, il quartiere San Carlo Arena e la circonvesuviana di Barra. In particolare tratto in arresto nel quartiere Soccavo dai baschi verdi del gruppo pronto impiego un 48enne spacciatore trovato in possesso di 100 grammi tra marijuana e hashish contenuti in 13 involucri, 10 grammi di cocaina suddivisa in 24 dosi e 1825 euro in contanti. Inoltre il primo nucleo operativo metropolitano nell'ambito di un intervento ispettivo congiunto con il commissariato di polizia di Stato e il dipartimento della polizia municipale di Posillipo ha scoperto all'interno di un vivaio in via Petrarca tre lavoratori in nero, di cui uno straniero privo di permesso di soggiorno. Infine a Nola le fiamme gialle del locale gruppo hanno sottoposto a sequestro oltre 200.000 articoli e accessori per l'estetica, per acquario e per ufficio senza le indicazioni di sicurezza in lingua italiana, segnalata alla Camera di Commercio una 57enne di origine cinese titolare di uno store di casalinghi. Nel quartiere Colle Aminei i carabinieri della stazione di Capodimonte, insieme a quelli del nucleo operativo della Compagnia del Vomero, hanno arrestato per rapina un tretto ottenne di Miano già noto alle forze dell'ordine. È mezzanotte e l'uomo a bordo della sua auto sta percorrendo Viale dei Colli Aminei. Si avvicina a due ragazze che stanno passeggiando, a costa, scende dall'auto e scaraventa a terra le due vittime che tentavano di fuggire. Si impossessa della borsa, con all'interno uno smartphone, di una delle due diciottenne. Alla scena assiste il comandante della stazione dei carabinieri di Capodimonte, affacciato alla finestra del proprio alloggio. Il sotto ufficiale urla nei confronti del trentottenne che desiste da rapinare anche l'altra vittima e fugge con la sua auto. Scattano immediatamente le indagini. I carabinieri irrompono nell'appartamento del rapinatore, nel rione San Gaetano, e durante la perquisizione trovano il cellulare della vittima e arrestano l'uomo. Lo smartphone è stato restituito alla legittima proprietaria, che il ricorso alle cure mediche ne avrà per cinque giorni, se saprognosi per l'amica. Si chiude con un pareggio contro la Vibonese e la stagione del ritorno della Turris nei campionati professionistici, dopo quasi vent'anni di assenza. L'obiettivo salvezza dichiarato dalla società è stato raggiunto con un turno di anticipo, anche se con qualche patema di troppo, nella seconda parte di campionato, visto anche l'ottimo rendimento nella fase iniziale. La trasferta a Vibo Valencia aveva poco da dire dal punto di vista della classifica, con le due squadre già salve e senza velleità di play-off. Corallini che si presentano in Calabria con una difesa a tre e lungo punta, sostenuto da Romano e Giannone. Succede poco fino a minuto 35 quando Plescia, ben imbeccato dalla Ribi in contropiede, buca la difesa ospite e costringe Loreto al fallo da ultimo uomo, con conseguente espulsione per il difensore. Turris in dieci per quasi un'ora. Nella ripresa Giannone supera Bengoni da pochi passi, ma l'arbitro annulla il gol per fuorigioco. A passare in vantaggio invece è la Vibonese, con un tiro dal limite di Spina, che trafigge a Bagnale. Passano pochi minuti e Persano, subentrato nella ripresa, raccoglie un bel cross di Giannone e spaccata batte il portiere rosso-blu. Le squadre nel finale provano a superarsi, ma il risultato non cambia più. Pareggio giusto, che chiude una stagione di alti e bassi, ma che ha riportato entusiasmo in una piazza da tanto tempo lontana da importanti palcoscenici. Appuntamento quindi alla prossima stagione ancora in Serie C. Grazie a tutti. Grazie a tutti.